10, 5, 4, 3, 2, 1, vai, destra 2 no, sinistra 3 no, 20, destra 4 no, dettaglio a destra 1, destra 4, 2 tempi, subito inversione a sinistra 1. Questa 3, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 13, 14, 15, cringe, proximo, diseases, 'tamor un virus, gestor et alf ρ 2, sadia, alfis, g stitch, yonomodi, 1, GOG, insulto, clark, calamidad. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.